Bene, grazie e buon pomeriggio a tutti. Come tutti sanno, nella moderna frutticultura integrata si sta assistendo alla diffusione di tecniche di difesa alternative alla tradizionale applicazione di insetticidi e prodotti chimici in generale, fra cui le protezioni fisiche come le reti antinsetto. Sicuramente l'esempio di maggior successo di questa tecnica, recentemente appunto introdotta, è quello delle reti anticarpocaps che in Francia sono applicate su oltre 2000 ettari di meletti e hanno appunto, come sapete, il nome di Alcarpo. In Italia la tecnica è stata introdotta un po' più recentemente ma abbiamo circa 400 ettari di peretti e meletti soprattutto nel nord Italia. Poi più di recente questi sistemi hanno acquisito un'altra, hanno cambiato un po' nome, hanno acquisito appunto la dominazione di rete multifunzionale proprio perché svolgono, in grado di svolgere anche azioni collaterali positive anche su altre avversità, abiotiche e abiotiche, quindi grandine, pioggia, danni da uccelli e altre avversità e anche alcuni possono essere utilizzati anche per alcuni interventi agronomici come l'iradamento dei frutti. Venendo invece alle reti, quindi all'applicazione sulla drosofila Suzuki, questa qui sicuramente è stato avviato, come già anticipato il dottor Mori, proprio per la difficoltà del controllo di questo pericoloso dittero. Le primissime applicazioni risalgono sicuramente, sono a registrare nella zona di Trento, sui piccoli frutti, ma in questo caso l'applicazione non era facilitata dall'altezza delle piante, dalle strutture preesistenti, cioè dalle serre già preesistenti. Poi successivamente è stata poi trasferita sul ciliegio e in particolare come vedremo sull'applicazione, modificando le coperture antipioggia preesistenti, poi esistono anche altre esperienze come la rete monopianta sui pianti a vasetto del Veneto, di cui ho già accennato prima, e anche poi altri sistemi. Per quanto riguarda il volo all'interno e all'esterno, vedete dell'impianto, la rete, vedete all'esterno avevamo questi voli delineati con la linea blu, all'interno, come già avevo accennato, vi è un forte ridimensionamento delle catture ma non vi è un isolamento totale. Per questo, come vedremo, poi abbiamo utilizzato anche alcuni interventi di supporto. Qui i risultati, i portati aggregati ovviamente per motivi di tempo. Quindi, diciamo, nella tesi rete più trattamenti avevamo praticamente efficacia pressoché piena, 0,4% di media di danno. Nella tesi all'esterno con i trattamenti 10%, il testimone non trattato, chiaramente la produzione era completamente persa. Trattamenti integrativi fatti in entrambe le tesi 1 e 2 con strategie a base di spinosat e deltametrina. Non siamo riusciti a fare analisi qualitative per motivi di tempo ma, diciamo, a livello macroscopico non abbiamo osservato nessuna differenza significativa in questa prova. Altri impianti che stanno venendo avanti e che comunque vorremmo sperimentare nei prossimi anni sono quelli della rete anti-insetto monofila. In questo caso si tratta di un manufatto da impiantare ex novo, quindi non è un adattamento di una copertura anti-pioggia e qui ad esempio sono alcune fotografie scattate a Ferrara nel 2014, sono primi impianti, vedete che caratterizzati da una copertura che funge sia da rete anti-insetto nella parte bassa ma anche caratterizzata anche da una doppia maglia nella parte più alta con funzione anti-pioggia. Quindi un sistema nuovo che dovrebbe comunque garantirci una piena protezione nei confronti della drosofila. Chiaramente i costi in questo caso aumentano decisamente e chiaramente, ecco qui è un disegno che mi ha fornito, una delle ditte che sta realizzando questi impianti, vedete chiaramente l'impiego di reti, di braccetti, di strutture di supporto comunque varia notevolmente in base all'altezza e alla vigoria delle piante e al loro volume. Quindi sono tutte osservazioni da poi realizzare nei nostri ambienti dove fra l'altro abbiamo impianti tendenzialmente molto elevati, quindi non impianti bassi o fitti. In questo impianto abbiamo poi realizzato, anzi ha realizzato poi il dottor Lugli dell'Università di Bologna che ha collaborato in questa attività, sono stati posizionati alcuni sensori e diciamo in questo appezzamento il confronto era con una rete antigrandina nera, cioè insomma avevamo un appezzamento con la rete anti-insetto, cioè alcuni filari con la rete anti-insetto a confronto con un altro appezzamento con rete antigrandina nera. E vedete che per analizzare le temperature medie giornaliere abbiamo in questo caso un incremento, facendo osservazioni con due sensori, uno a due metri, l'altro a tre metri e mezzo, quindi vicino al colmo della rete, avevamo degli incrementi molto più bassi rispetto a quello che avevamo osservato nel monoblocco. In questo caso probabilmente c'è anche una circolazione dell'aria fra una fila e l'altra, però abbiamo un incremento di 0,5-0,6 gradi durante la stagione della raccolta del ciliegio. Per quanto riguarda l'umidità addirittura, come vedete sempre con la stessa impostazione, quindi posizionando sensori all'interno e all'esterno, per esterno intendo la rete antigrandina nera, possiamo vedere che addirittura nel sensore a due metri di altezza abbiamo una riduzione dell'umidità relativa, mentre nella parte alta un incremento trascurabile, più 0,4%. Se andiamo a vedere anche là, sono stati posizionati anche alcuni sensori per verificare l'irraggiamento all'interno e all'esterno di queste reti, un sensore rivolto verso l'alto e un sensore rivolto verso il basso, tutti e due posizionati intorno a un metro e mezzo di altezza. Ovviamente l'irraggiamento è maggiore nel misurato quello nella parte alta, vedete questa linea continua rispetto alla parte bassa, però si vede un risultato abbastanza interessante, cioè sostanzialmente la rete antisetto monofila, quindi la linea rossa, presenta una radiazione superiore alla rete antigrandina e questo poi potrebbe essere spiegato anche a seguito di effetto di riflettenza da parte della rete e di diffusione della luce, ma sono tutti i dati preliminari che dovremo poi approfondire nei prossimi anni. Sono stati fatti anche alcune analisi qualitative preliminari, fra appunto l'appezzamento rete antisetto e antigrandi, nelle due culti varcordia e ferrovia. Vedete che non ci sono grosse differenze qualitative, ecco nella cordia abbiamo sostanzialmente tutti i parametri che non si differenziano in maniera significativa, tranne il colore, cioè c'è un decremento di colore, un decremento di colore diciamo nell'antisetto, però in ferrovia la situazione è opposta, cioè abbiamo praticamente un leggero incremento di grado BRICS nella rete antisetto e un incremento del colore, quindi diciamo sono primi dati comunque da approfondire ma che, come diceva già prima Nicola, non ci preoccupano più di tanto al momento, non ci sono grosse differenze sembra a livello qualitativo in questi sistemi. Alcune considerazioni conclusive, ecco possiamo dire subito che per adattare le coperture antipioggia preesistente i costi sono molto contenuti e il sistema è molto facile da realizzare come ho fatto vedere prima, ecco tenete conto che abbiamo, come sapete forse meglio di me, abbiamo circa 250 ettari di impianti coperti nella zona di Vignola e quindi abbiamo già un 20% di superficie potenziale che potrebbe essere protetta con questo sistema diciamo di adattamento. Questo sistema sicuramente ci porta ad avere maggior tranquillità durante il periodo della raccolta, in particolare si può attendere lo stadio ottimale della maturazione, quindi ottenendo migliori pezzature e qualità e questo l'abbiamo visto anche nella mattinata, cosa vuol dire a livello economico. Sappiamo poi proprio nella nostra realtà abbiamo proprio una struttura specializzata e questo aspetto per noi è molto importante. Altri aspetti che abbiamo osservato è con la rete monoblocco, come ho già accennato, si possono ridurre l'utilizzo di insetticidi o comunque migliorarne l'efficacia con questa protezione passiva. C'è comunque da migliorare nella rete monoblocco tutta la gestione perché comunque ci sono diverse aperture e chiusure durante la stagione, c'è ingressi uscite da parte di operatori o macchine e quindi con rischio di ingresso ovviamente di infestazione di idrosofila. Per quanto riguarda invece la rete monofila con azione antipioggia è un sistema innovativo, ovviamente molto più costoso, molto più tecnologico ma è di questo dovremmo appunto verificare nel nostro ambiente la piena efficacia e fattibilità. Come già ho accennato il microclima e le qualità delle produzioni al momento sono i risultati al momento sono incoraggianti ma meglio dare avanti con le sperimentazioni in annate più calde di quella del 2014. Mentre si osserva, anche se gli ambienti erano diversi quindi sono prime osservazioni che un po' deduco anche dell'esperienza fatta sulla carpocapsa, ecco insomma sulle reti carpocapsa, sembra che vi sia un maggiore incremento di temperatura e umidità relativa sul monoblocco rispetto al monofila. E questo, ecco giusto per agganciarmi la prima relazione e quindi al tavolo tecnico che comunque è il nostro punto di riferimento nei prossimi anni, si è pensato insieme agli altri colleghi nelle diverse realtà e anche nelle diverse tipologie di impianto, cioè di reti di protezione passiva, di effettuare queste osservazioni, cioè di approfondire in particolare la qualità delle produzioni e il microclima. Il discorso legato all'ombreggiamento, quindi la costanza produttiva negli anni e quindi l'influenza di queste reti sulla differenziazione a gemme, a fiore delle gemme. Alcuni effetti collaterali, quindi altre avversità come la moniglie, la fide nero, gli acari, le forficule, i ricamatori, eccetera. E poi dovremmo comunque fare alcune osservazioni sugli interventi fitosanitari di supporto negli impianti monofila. Nel senso che dobbiamo verificare se la distribuzione dall'esterno, senza aprire la rete, sia corretta, naturalmente utilizzando cartine idrosolubili e osservazioni di altro genere. Sugli impianti monoblocco sarà necessario individuare sistemi per ridurre le aperture e le chiusure durante la stagione e poi sarà necessario ovviamente effettuare un'analisi di attecco economica delle diverse tipologie e la loro convenienza economica. Con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.